oh no ma che stai fa? me ne fa una sega così proprio? si si che stai fa? ho cominciato a farmi i coglioni eh ma che è sta crocco con questo legno? che è? è una crocca perchè fa? è perchè per divertirmi ma che ci metti? ci vuol dirmi come funziona? non ho già crispi no crispi mac bacon che ci fai con questo? oh oh no spiegami ma levati i coglioni levati ah spiegami che ci fai mannaggia il bambino ma è possibile che questo è scemo? ah che fa? che fa? qui all'altro madonna che cotonfiocca che hai fatto questo è pazzesco fermiti perchè domani è il tuo compleanno e beh fermiti questa è questa mamma mia che tinta pure eh bello mamma mia fermi sono più bianchi io che stai tritando? non ce la fai ma è possibile che ho stasera tutti i cazzo dai che stai tritando? la fica ma bella tutta questa così cioè tu la triti e dopo che ci fai se uno pigia di qui che succede? pigiaci sentilo che stai tritando o no? ah io sto tritando largo e tu mi hai tritato i coglioni nooo si ma perchè? perchè si guarda quanto sei bellino quando triti mannaggia Cristina oh no ah Cristina davena che merda Bobo? tu parli argentino eh? si saluto a tutti gli amici argentini vai saluto tutti gli amici argentini meglio meglio saluto tutti gli amici argentini meglio meglio voglio affanculo nooo nooo scusa ma è la seconda messa va via non mi ha si la va via ma come mai tutte queste messe perchè io le dico voglio amare un Gesù eccolo 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 vai via guardalo guardalo signore perdono ma io non ne so il papa non ne so il papa che fa dormi? no c'è la messa ma messa non messa lui dormi è vero no? e dice lì ma no uno sta anche chiuso e bella che fa? tra cosci tutto il giorno perchè? e che ne so di io perchè va via anche tu perchè dormi? oh però per tanti voglio se no chi ha pescatto no le minacce no no